Salve ragazzi, oggi ammetto che mi girano ma giusto un pochino un pochino i coglioni, un pochino, un pochino, perché non è possibile l'ennesima stronzata da parte del muretto. Dai, ma com'è possibile presentarsi con tre ruote? È una macchina di Formula 1, te ne presenti io con tre. Ma posso capire, ok, i meccanici hanno chiamato, cioè anzi il pilota ha chiamato i meccanici proprio all'ultimo, manca una gomma perché presi alla sprovvista, così, anche se secondo me a quei livelli si fa un briefing, si dice briefing, e si mette in conto, cioè si fanno tutte le possibili cause di mancamento di una gomma, di una pistola, o se succede quello tu devi essere pronto con l'altra gomma, o se succede che manca quello tu hai l'altra pistola di riserva al volo, cioè no, niente, niente, così andiamo con tre gomme. Ma poi, quando è il pilota, cioè quando è il muretto, invece che chiama il pilota, è il muretto, ci sono ventordici meccanici seduti là così che stanno vedendo lo schermetto, è il muretto che l'ha chiamato. Ragazzi, ragazzi, prendete le gomme, fai tu, gomme di riserva, no, non esiste, ti presenti là con tre gomme, tre gomme, tre gomme, e perdi possibile terzo posto, vai in sesta durante la gara, perché poi lasciamo perdere. Pure l'unsafe release, che sarebbe quando ce l'ha detto, che vede se la pista è libera, e l'hanno fatto uscire che la pista, che è la pista, che l'uscita di box non era libera, e quindi altri cinque minuti di penalità, perché sopraggiungeva una McLaren, se non sbaglio. Cinque minuti, sei, cinque secondi, cinque minuti, tanto stiamo lì ormai, dietro, ma, boh, dunque io non mi spiego le stronzate del muretto Ferrari a quei livelli, con tre ruote, tre. Poi, vabbè, ci può stare che lasci la pistola, quella che serve per avvitare il bullone, il dato della ruota, la lasci in mezzo alla pista, che l'ha gli altri, Perez l'ha calpestata, potrebbe esserci, forse ci sarà una multa, sicuramente, vabbè, ma là ci sta, perché sì, dai, scordiamoci le cose, buttiamo gli altri in mezzo alla pista. No, ragazzi, non si può, ma non si può proprio. Poi, anche visto la fortuna che hanno gli altri, la safety car, prendiamo il caso dell'ultima safety car, che Verstappen, la fortuna di Verstappen anche, che entra in regime di safety car e esce, appena esce la safety car finisce, e quindi può togliere l'illimentatore e andare tranquillamente, come avesse fatto un pit stop normale, cioè, no, 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 anzi, più che normale, perché è stato avvantaggiato dagli altri che erano fermi prima, o andavano piano. No, ragazzi, poi, cose inconcepibili, Tsunoda si ferma, safety car, anzi, bandiere gialle, Leclerc, giustamente, bandiere gialle, entra dentro, no? Niente, Tsunoda, con le cinture slacciate, ripiglia, ripiglia la marcia, ripiglia la marcia, la Ferrari ormai, quindi, brucia un pit stop, poi si riferma dopo, così, a Brullo, si riferma dopo, con le, cioè, vabbè, si riferma dopo, e gli altri fanno tutto il pit stop a quel paese, e quindi, in quel caso, a Emilton e le Mercedes sono state penalizzate. Boh, una fortuna, questa Red Bull è incredibile, incredibile, io, però, lo schifo della Ferrari non me lo spiego. Adesso c'è Monza, eh, ah, 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 mo c'è Monza, c'è Monza, che famo a Monza, famo schifo. No, ragazzi, ragazzi, parlando, tornando alla gara, all'ordine d'arrivo, Versailles vince, domina tutta la gara, come si sapeva davanti al suo pubblico, giusto un piccolo lasso di tempo dove le Mercedes sembravano potercela fare, ma c'è stata anche la diatriba tra Hamilton e il compagno Rass, Hamilton si è arrabbiato per il sorpasso, bla bla bla, ma tanto non c'è niente da fare, Verstappen vince, vince sempre, vince, 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 vince. Molti di voi ho visto tramite sondaggi che non lo sopportano e lo sto iniziando a odiare sportivamente anche io, preferivo Hamilton, ma non credevo ci fosse qualcuno che avrebbe sostituito Hamilton nel mio odiare sportivamente gli avversari. No, ragazzi, bravo Alonso, Sainz si è perso, sembrava aver il fondo danneggiato, ma no, la macchina era normale, era integra, si è perso così, noi partiamo primi, partiamo sempre davanti nelle prime file e poi arriviamo dietro, arriviamo dietro, sì, ma ormai, ormai, ma che ci frega, ormai dai box fanno schifo, bruciano tutto, no, vabbè, io ragazzi sto veramente senza parole, tre ruote, ti presento, già questi sofforti, no? Torna sotto pure la Mercedes e ti presenti con tre ruote? Ma come fai ad essere impreparato? Come fai ad essere impreparato? Quindi voi Sainz che lo vedete ottavo, non so se questa è già corretta la classifica, forse finisce il decimo, undicesimo posizione con quei cinque secondi, non lo so, forse è corretta, ma tanto ormai via. Leclerc per fortuna terzo, ma che ce fai col terzo? Cioè, dovevi combattere con Verstappen? Cioè ragazzi, ma voi che pensate? Tre ruote! Ma ti puoi presentare nel 2022 a quei livelli con tre ruote? Sembravano, cioè, tutti mammalucchi così, eh, nella ruota, dove sta? Dove sta? Beh? Beh? Oh? Cioè dai, no, no, ma è una presa in giro, ragazzi. Io più che la possibile telefonata del capo Red Bull a Zunoda della serie, oh, riprendi la marcia e fermati dopo, quella cosa che non credo, non credo, che cazzo che ho fatto Zunoda, non si sa perché è ripartito. A me più di quello fa schifo il pensiero che in un muretto di Formula 1, in un muretto, dei meccanici di Formula 1, cioè non siano preparati a un pit stop anche improvvisato, che poi hanno chiamato loro, non il pilota. Non lo so, ragazzi, scrivetemelo voi nei commenti, io proprio non... non so che dire, e se le cose continuano così, a Monza, Verstappen, ce lo mette in quel sedere in casa. Eh, ragazzi, è così. Vabbè, va, meglio che la finisco qua e sbollo, e sbollo, perché oggi mi girano veramente. Non si può, non si può. Vado io a fare il meccanico? Vado io? No, vabbè, vi saluto qua. Ciao, ragazzi.